A 20 anni dalla prima rappresentazione di Cravattà ritorna in scena al Teatro San Ferdinando di Napoli l'opera di Fortunato Calvino sul dramma dell'usura che soffoca l'economia e riduce alla disperazione le esistenze. È stato il primo testo in assoluto che nel nostro paese ha affrontato quel tema e lo ha affrontato quando ancora nel 1994 non c'era ancora la legge sull'usura, quando ancora il fenomeno si contrastava con i vecchi strumenti e in quel contesto Cravattà ha dato una spinta assai importante che poi ha portato nel 1996 all'approvazione della legge 108. Dal 10 al 14 marzo lo spettacolo viene riproposto con musiche di Enzo Gragnaniello ed un allestimento rinnovato ai ragazzi delle scuole napoletane e vuole essere occasione di confronto con personalità delle istituzioni e della cultura su un fenomeno ancora di triste attualità. Quando ho iniziato nel 1994 veramente ero l'unico che portava a teatro questa tematica, un testo che va e ancora diffuso proprio per portare avanti questo discorso sulla legalità, sul fenomeno purtroppo molto diffuso dell'usura a livello nazionale. Dal mio punto di vista è una bellissima creazione artistica, ha anche un grande significativo risvolto civile e soprattutto ce l'ha in questo momento in cui la crisi ha fatto di nuovo dell'usura uno dei più gravi problemi della nostra realtà. E quindi questo richiede una grande riscossa civile, un grande impegno delle istituzioni, una forza di reazione che dobbiamo saper mettere in campo e fondiamo soprattutto sull'arte e sulla cultura perché questa reazione si produca. Organizzata su impulso dell'associazione culturale Meta Studio 89, d'intesa con il Comune, l'ufficio scolastico regionale e le associazioni per la lotta al racket e all'usura, l'iniziativa rappresenta un'espressione del teatro denuncia e analizza l'illegalità e la violenza che sempre accompagna questo fenomeno. L'obiettivo è di stimolare la responsabilità di ognuno per contrastarne la diffusione e credere in un modello diverso di convivenza. Oggi a vent'anni di distanza che cosa è cambiato? Oggi quando noi parliamo di usura parliamo di un fenomeno rispetto al quale c'è più sensibilità, rispetto al quale vi sono strumenti normativi di aiuto, di contrasto e di aiuto alle vittime, rispetto al quale c'è una realtà associativa che offre assistenza, sostegno, solidarietà alle persone che possono denunciare questo fenomeno.